Sono passati 46 anni da quando in Italia è garantito il diritto all'aborto, dall'entrata in vigore della legge 194 che permette alle donne di ricorrere all'interruzione volontaria di una gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento. Eppure nel Paese esistono ancora numerose barriere di accesso alla pratica medica, dovute per lo più al tasso di obiezione di coscienza e alla mancanza di strutture adeguate. In Puglia il numero di medici e obiettori supera l'80% dei ginecologi in servizio e il lavoro è caricato su due strutture in particolare, l'ospedale San Paolo di Bari e l'ex nosocomio di Trigiano. In entrambi vi sono due validi reparti di pianificazione familiare e interruzione volontaria di gravidanza in cui si riversano le donne provenienti da tutte le altre province, soprattutto dal Tarantino al Foggiano. Abbiamo fatto il punto della situazione con la dottoressa Marcella Lerro, ginecologa del San Paolo. Il numero estivo delle interruzioni di gravidanza aumenta perché alcune donne non trovano risposte negli ospedali di altre province pugliesi, non essendo organizzati, considerato anche che purtroppo ci sono le ferie che rendono ancora più complicata la procedura. Per quanto riguarda le nostre statistiche, noi a San Paolo abbiamo preso l'abitudine da un anno, forse anche più di un anno, di somministrare a tutte le donne che vengono a chiederci l'interruzione un questionario, anonimo ovviamente, una serie di domande relative alle motivazioni per cui quella donna ha dovuto interrompere la gravidanza. Possiamo dire che in linea di massima le voci più presenti, percentualmente, sono fondamentalmente due, quella economica, ma la voce più presente, e questo ci ha un po' stupito, è invece la scelta della donna di rinunciare alla maternità perché è incompatibile con il lavoro che fa. Quindi parliamo di donne che hanno intrapreso, per esempio, una professione impegnativa.